Ciao e benvenuti su PrivaGar San Cesario. Oggi testeremo per voi questo Renault Cajar con motore 1510 cavalli. Ce ne sono davvero tanti ma come questo pochissimi perché cambia automatico con sette rapporti e doppia frizione. Scopriamolo meglio. Sono davvero tanti i punti di forza di quest'auto. Primo del novembre 2017 ed è unico proprietario, tutti tagliando i certificati. Il fatto che abbia percorso solo 67 mila chilometri sta a indicare il fatto che è stata utilizzata davvero poco. Infatti gli interni e gli esterni si presentano davvero in maniera impeccabile. Altri punti di forza è una serie infinita di accessori. Adesso ve ne elenco qualcuno davvero interessante. Il primo è l'eco mode, il sistema di guida efficiente dove praticamente l'auto assegna un punteggio sul tipo di guida che avete. Proprio questo per sensibilizzarci oggi nell'avere una guida abbastanza parsimoniosa e poco inquinante. Un altro optional è il sistema di navigazione con touchscreen da 7 pollici, retrocamera posteriore con sensori di parcheggio e quindi rilevamento ostacoli sia avanti e dietro e negli angoli ciechi della vettura. Un altro accessorio che non troverete su questo allestimento è cerchi in lega diamantati da 19. È stata omologata apposta per montare questi cerchi che vanno a dare come vedete un tocco di eleganza e sportività unico nel suo genere. Guida alta, tipica appunto dei SUV, ma mi piace che in accelerazione, adesso la testeremo insieme, la doppia frizione non fa sentire molto lo stacco tra una marcia e l'altra. I SONICI I SONICI I SONICI beh direi davvero ottimo l'accelerazione molto corposa il cambio è fluido e la frenata devo dire molto decisa passiamo adesso al test accensioni e fumi degli scarichi davvero davvero tanti gli accessori che monta se volete conoscere l'elenco completo e entrare un po più nel dettaglio di questa vettura potete visitare l'annuncio di vendita su privacar.com nella sede di san cesario oppure se volete prenotare un test vi aspettiamo qui nella nostra sede potete contattarci nei numeri che seguono grazie e ci vediamo la prossima